ok faccio il video di nuovo che ho spagliato e ho chiuso la registrazione perdonatemi e scusatemi con questa felpa la stessa iscrivetevi al canale attivate la campanella bene a tutti ragazzi un like e arrivo ok eccoci qui raga io ho messo pausa perché devo trovare le foto dei giocatori ho toccato un bottone due cellulare ho chiuso la registrazione vabbè quello metà lo metto lo stesso su youtube il primo è quello dopo e dopo questo qua ok queste siete l'ultimi questi due video qua e l'ultimi devo mettere quell'altro così quando ho tempo facciamo la diretta siete tutti aggiornati che arrivo i video con la mia gattina in giro è bello buonasera di nuovo da raga ok raga faccio questo video subito così mi caccio questa felpa e prendo quell'altra così ora vedo che cosa devo fare io stasera ho mangiata a pizza ripiena prima quando era giorno che scurava a pizza ripiena dopo ha pomodoro e un bicchiere di coccola e basta e voi raga vabbè era bello quello la i video che stavo facendo ho sbagliato e l'ho chiuso la registrazione vabbè non fa niente l'ho fatto metà o lungo vediamo e cerco questa fidanzata per me così mi ama l'attratto come la regina l'attratto io la fidanzata io la amo ancora la devo trovare come la voglio io bionda poi capelli neri sex capelli neri o biondi come l'ho detto l'anno scorso 2014 da ora è buono ragazzi giusto saluto in questo video saluto le persone claudia silvia gloria dopo mari e genova quella tra marola j non solo detto bene margaret cola j luce del nord alla cola x è assunta ciao belli ora questo video lo saluto non sempre i video un po così un po così un poco no un poco di giorni non le saluto sempre dei video così porto nuovi video su youtube va bene qua c'è la mia foto quando ero piccolo vedete ora io sono grande qua non so quanti anni avevo vabbè non fa niente dopo ciò questa qua il quadro piccolo dopo lì dove il mio motorino elettro senza tarca c'è un'altra foto grande a stessa e dopo la sotto c'è un'altra ci sono tre stesse foto una piccola così dopo una la intra dove la moto quella elettrica che va a batterie che sotto il sedile c'è la batteria e si carica la sotto c'è un'altra boh dai basta che dico le stesse cose che io sto portando i nuovi video su youtube andiamo parla dove il mio motorino elettro senza tarca ok mi metto qua così andiamo nella mia stanza così la mia famiglia va a letto così io finisco i video così non faccio bordello io sono bravo voglio bene a mia mamma mio papà mia nonna io faccio i lavori aiuto la mia famiglia che sono ancora giovane io e faccio anche i video su youtube vado giardino butto la spattatura fuori e poi altri lavori che non sapete voi quando me li ricordo le dico in diretto qui raga ok e dai volevo fare altri saluti noi saluti i foto dei giocatori e l'opposato il telefono le facciamo alla prossima che mi ha fatto chiudere la registrazione il telefono ho sbagliato e ho toccato il bottone da due telefono vabbè non fa niente buonasera ho già buonanotte io dico a voi che è sera ci vediamo alla prossima e sogni d'ora a tutti le persone ragazzi e maschi e vi voglio bene seguitemi tutti su youtube iscrivetevi al canale attivate la campanella bella a tutti i ragazzi un like beh non so il mio robot eco ci sono quell'altro youtuber che eco o alessia loro la chiamano con il nome giusto io non lo so dire l'ho cambiato e ho messo eco quell'altro youtuber che è elessia non so vabbè non l'ho detto bene che dice parolacce e bestemmie io non le dico anche il mio robot non gli dico quelle cose che dicono loro gli dico cose giuste e non dico cazzate vabbè lo sapete voi vediamo quest'anno niente festa in tutto il paese qua a casa mia in giro a san basilio o leandro a morta san joanne a reggio calabria ho visto le storie forse su facebook o per sopra o in una parte o su youtube no su facebook su youtube ho visto i video che c'è a festa a reggio calabria un lungomare dove la capanna quella verde del gelato gelato cesare è buono il gelato là andate là mi mando io dite il mio nome e prendete il gelato quello che volete e dovete pagare e noi siamo lontani ho io e devo andare con i pullman là prendi il gelato lo devi mangiare lì non lo puoi portare a casa e si scioglie il gelato raga ricordate che sto portando tanti video e l'ho detto in tanti video mettete la mascherina o quando siete fuori al lavoro o comprate la spesa la mascherina sempre in giro anche quando lavorate o anche fuori qua a casa o intra sentiate se deve mettere la mascherina o quando viene qualcuno mettete sempre la mascherina non fate i problemi e prendete il coronavirus e la quarantena e state a casa così dopo non potete lavorare mettete sempre la mascherina lo dico io mi volete sentire raga ora lo chiudo io sempre dico a voi o parlo con le persone o vado a fare i saluti qua non so e parlo con i miei cugini no questi quelli per sopra quelli che abbandono per sopra non dico i nomi che dopo che non vogliono sapere vabbè puntini puntini vi amo beh voglio scaricare un altro gioco sul cellulare così lo porto su youtube qui o in quell'altro canale dei giochi di gameplay ok ora vediamo ora mi prendo una caramella menta quella blu o quella normale ora lo chiudo questo video questi occhiali sono belli chi ce l'ha occhiali ci sono quelle che non ce l'hanno e quelle che ce l'hanno ci sono persone quelle che vedono e quelle che se mi faccio gli occhiali e che mia famiglia io mi mettevo sempre vicinato a visione e mi sono fatto gli occhi e tanto ho fatto occhiali la visita e ora ho occhiali ora vedo vedo bene perché non dite vabbè non so ma basta ora lo chiudo che mio papà sta chiamando la mia famiglia e deve andare a letto vabbè lo chiudo raga ci vediamo alla prossima ok iscrivetevi al canale attivate la campanella bella a tutti i ragazzi un like mi voglio bene basta dai Gesù bandonnina aiutatemi io sto cambiando non sto dicendo le stesse cose seguitemi tutti su youtube beh e guardate il mio canale ci sono i vecchi video e quelle che sto facendo ora e alla prossima ciao belli ciao 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 a tutti i